l'oreto 360 ovvero un filmato a 360 gradi fatto a l'oreto primo di una serie dedicata alle varie località marchigiane marche a 360 filmati realizzati con la gopro max 360 a 360 gradi 30 fps 4k pro res in fase di edificio e ovviamente se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina e seguitemi anche sui vari social e intanto continuiamo questa passeggiata con questi effetti così particolari e diciamo pure che le marche e l'oreto in questo caso così non l'avete mai vista questo video è finito metti mi piace iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno caricati guarda altri video ce ne sono di vari generi arriveranno altri video a 360 ciao alla prossima